Osservate l'attuale stabilità di prezzo di Bitcoin, questa è la calma prima della tempesta. La volatilità non era così bassa dal 2019 e questo evento è venuto solo altre 4 volte nella storia di Bitcoin. In tutte e 4 queste occasioni poi c'è stata un'esplosione di prezzo dell'asset stesso. Ora questo avverrà anche oggi, lo scopriremo insieme in questo video. Ciao, se la prima volta che mi vedi mi presento, sono Stefano De Benelli, conosciuto anche come il Marchese del Cripto. Sono un ex consulente finanziario, ora dedito al 100% tutti i giorni al settore delle criptovalute. In questo video non ci saranno previsioni magiche, non ci saranno pozioni strane, ma ci atterremo solamente ai fatti e ai dati e lo andremo ad analizzare insieme in modo tale che potremo capire quello che potrebbe fare Bitcoin. Se ti sembra interessante, ti invito a lasciare un bel like a questo video e di iscriverti al canale attivando la campanella, così non ti perdi contenuti di questo tipo. Ma adesso cominciamo. Iniziamo dicendo che stiamo analizzando il grafico settimanale di Bitcoin, ossia ogni candela è una settimana e ho messo questo indicatore, l'NVT e HV combinati. Questi due indicatori combinati ci danno una panoramica sulla volatilità. E nello specifico l'NVT ci dà una indicazione se una criptovaluta è sovra o sottovalutata rispetto alla sua attività di trading della blockchain sottostante. Mentre invece l'HV, conosciuto anche come Token Holder Value, in pratica ci dà indicazione se le persone detengono questa criptovaluta per il lungo o il breve termine e per attività di trading. combinati insieme ci danno una indicazione sulla volatilità del settore delle cripto, in questo caso nella fattispecie di Bitcoin. La volatilità storica è minima, come possiamo vedere, sta diminuendo costantemente e in questo momento si trova addirittura qui sotto. Che cosa significa? Che possa essere una fase di calma prima della tempesta? La volatilità di Bitcoin è scesa solo altre 4 volte sotto questo livello. E andiamo a scoprire quello che è successo. Come vediamo, l'ultima volta è stato nel 2019, dove il prezzo di Bitcoin si trovava a 3940 dollari circa. Dopo essere sceso al di sotto di questa linea rossa che ho tracciato qui, il prezzo di Bitcoin ha avuto un'esplosione di prezzo incredibile. Eccolo qua. Questo è quello che ha fatto più 258%. La volta precedente che abbiamo avuto una volatilità così bassa, dobbiamo andare al 2016, dove l'abbiamo avuto in pratica due volte ravvicinate. E anche qui cerchiamo di capire quello che è successo. Se noi prendiamo la seconda volta che è sceso al di sotto di questa linea rossa, il prezzo di Bitcoin è aumentato in maniera impressionante. Dobbiamo stringerlo addirittura, altrimenti non rientriamo a poterlo misurare. Eccolo qui. Da qui in poi, come vediamo, Bitcoin ha avuto un incremento del 3195%. Ma se torniamo ancora indietro, la volta precedente è capitata nel 2013. Anche qui in questo caso avevamo una volatilità ai minimi storici. Guardate poi che cosa è successo. Guardate che incremento di prezzo che ha avuto Bitcoin quando abbiamo toccato questa linea rossa fino a raggiungere il suo top. Più del 10.000%. E adesso, tornando ai giorni odierni, vediamo dove siamo messi, siamo al di sotto di questa trendline che ho tracciato. Ora, indipendentemente da quello che tu pensi di Bitcoin, questo dato che ti sto dicendo è un dato storico. Sto limitandomi ad analizzare i grafici. Quindi, come detto, in apertura non sto inventandomi pozioni magiche oppure previsioni con la sfera di cristallo, sto semplicemente analizzando quello che è successo ed è innegabile che ogni volta che ci siamo trovati al di sotto di questa linea rossa il prezzo di Bitcoin abbia continuato a salire o abbia iniziato a salire. Chiaramente però non possiamo prevedere con esattezza il futuro basandoci solo su questi dati, ma è innegabile quello che è successo a livello storico. Quindi in ogni caso possiamo concludere questo almeno con certezza che la situazione che ci troviamo attualmente, che stiamo vivendo attualmente su Bitcoin, può essere paragonata alle precedenti. Un altro aspetto da tenere in considerazione è che tutte le volte che ci siamo trovati in questo punto è iniziata la fase 1 del bull market, quindi la prima fase prima dell'esplosione vera e propria dei prezzi, ossia il momento migliore per poter entrare. Come vediamo anche qui in questo caso abbiamo iniziato una fase 1, guardate poi, che rialzi che ci sono stati. Quindi se riusciamo ad essere onesti con noi stessi e non ci facciamo prendere troppo dalle emozioni, cerchiamo di vedere il tutto in maniera analitica. Quindi ci possono in ogni caso essere ancora delle correzioni, quindi Bitcoin potrebbe tranquillamente continuare a scendere. Io naturalmente sto guardando il lungo termine, non mi sto fermando sul giornaliero o da qui a un mese, ma sto guardando una panoramica di lungo termine. È vero, come detto, che potrebbe continuare a scendere, ma se uno analizza i dati, questo potrebbe essere sicuramente un ottimo momento per accumulare Bitcoin, anche qualora non lo prendesse al prezzo più basso. Scordatevi la possibilità di prendere Bitcoin al bottom, è davvero complicato, gli richiede più che altro fortuna, più che bravura. Ma a noi non ci interessa comprare Bitcoin quando il prezzo è il più basso possibile. Sarebbe fantastico, ma scordatevelo. Non è quello. Noi non facciamo previsioni di questo tipo, non siamo dei maghi. Possiamo attenerci ai fatti e ai dati. E i dati ci dicono che questa potrebbe essere un'ottima zona di accumulo. Ci troviamo in una fase di bassissima volatilità, quindi della probabile calma prima della tempesta, e in una situazione di ipervenduto. Quindi per gli investitori a lungo termine, che non guardano dall'oggi al domani, ma parliamo di anni, questa sembrerebbe proprio essere un'ottima zona per accumulare i nostri fantastici Bitcoin. Quindi a mio modesto avviso, nel complesso, la situazione mi sembra favorevole. Non so tu cosa ne pensi, probabilmente è un'idea simile alla mia, oppure probabilmente è un'idea differente dalla mia. Magari la puoi far sapere scrivendola qua sotto nei commenti del video. Noi chiaramente continueremo a monitorare la situazione di Bitcoin giornalmente, quotidianamente o settimanalmente, in ogni caso saremo sempre aggiornati sull'andamento di prezzo di Bitcoin e naturalmente anche di altre criptovalute. Ma adesso se vuoi sapere quando è il momento giusto per acquistare o vendere Bitcoin, ti lascio qui un video che puoi visionare in modo tale da avere questa informazione.